ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello anche se la distrae qualche capello in giro che il povero stilograficamente perde scusate questa digressione iniziale allora qui parliamo di tibaldi marchio che non è la prima volta che fa il suo capolino in questo canale abbiamo già visto la tibaldi modello n60 oggi vedremo la tibaldi infrangibile breve unboxing ma innanzitutto devo ringraziare gli amici del buy pay shop.it per avermi prestato questo esemplare di cui farò adesso l'unboxing parlerò un minimo diciamo di quello che ricalca e che già nel passato del nome infrangibile faremo una prova di scrittura esamineremo le grandezze principali sotto cui sono solito prendere in considerazione ogni stilografica quindi stenderemo una pagellina e trarremo delle conclusioni positive e meno positive prima di lasciarci ok tanto per cominciare scatola di cui potrei tranquillamente fare video asmr un cartonato molto molto robusto bella livrea arancione questo color quasi mattone un mattone stilografico insomma molto robusto cartone decisamente ben fatto bello il marchio in basso rilievo non so se riesco a metterlo a fuoco oggi ho problemi con la messa a fuoco tibaldi impresso anche sulla scatola sottostante insieme al nuovo marchio che ritrae un'aquila perché appunto tibaldi è stata rilevata dalla famiglia aquila se volete una storia del marchio tibaldi vi consiglio di vedere la recensione del modello n60 non tornerò per non tediare su qualcosa che ho già detto la scatola si apre l'abbiamo visto anche la volta scorsa la scatola non è cambiata rispetto alla modello 60 si apre a cassetto rilevando il modello di infrangibile che adesso andremo a esaminare il letto su cui è una sorta di velluto o similtale un elastico abbastanza lasco che non dà troppi problemi nell'ospitare la penna tenendola comunque abbastanza ferma ma senza che dobbiate graffiarla in qualche modo usuarla nel sottofondo c'è una busta di plastica contenente due cartucce brandizzate tibaldi quindi comunque c'è il marchio le cartucce sono ben chiuse in questa busta chiudibile e sono una cartuccia di inchiostro blu è una cartuccia di inchiostro nero ora non so a voi cos'è capitato con altri marchi ma non sempre si ha l'accortezza di alternare due colori di dare almeno una possibilità di scelta per cominciare o per continuare dare la possibilità di provare più di un colore secondo me è una cosa positiva poi questa molto semplice senza troppi fronzoli minimal qui abbiamo il certificato di garanzia qui potete apporre diciamo il il marchio il venditore può apporre il suo marchio il suo timbro mettere la data la garanzia copre due anni da difetti di fabbricazione ogni altra forma di informazione riparazione politica di reso sono tutte disponibili sul sito tibaldi.com quindi non stiamo a sprecare carta e a tediarvi troppo con contenuti che potete fare a meno quindi confezione assolutamente minima ciò non toglie molto molto robusta quindi potete tranquillamente affrontare un viaggio con la penna contenuta in questo mattoncino di carta e cartone passiamo adesso alla penna allora piccola digressione storica il marchio infran il nome infrangibile è associato nella linea storica di tibaldi quindi non quella moderna non quella rilevata dalla famiglia aquila quella originaria tibaldi infrangibile è un modello che segna uno stacco netto tra la produzione di penne tibaldi in ebanite che fosse ebanite nera che fosse ebanite rossa o fiammata e l'avvento della celluloide quindi comunque parliamo di un esemplare che introduce molti più colori nella linea tibaldi già fin dal suo esordio come nome infrangibile perché perché rispetto alle banite fiammata che era uno degli ultimi esemplari che è stato prodotto dalla tibaldi la dina le banite fiammata era bellissima ma avente caricamento a torsione aveva la brutta abitudine di creparsi era frangibile per cui per dare anche un ulteriore stacco e un recupero su esemplari evidentemente che hanno creato problemi all'utenza tibaldi nominò il primo esemplare in celluloide infrangibile proprio per dire che comunque c'era una resistenza assolutamente maggiore per lo più livree marmorizzate molto colorate quindi completamente diverse dall'esemplare che abbiamo oggi la nuova tibaldi infrangibile la nuova tibaldi infrangibile non ha assolutamente la pretesa al di là del nome di rievocare il suo la sua precursora si dice precursora sì penso di sì precursice perseguitrice no ok a parte l'ora tarda e la carenza di caffeina e diciamo le ispirazioni strane di turpiloquio esserali possiamo dire che non c'è una continuità dicevo con le linee del passato perché quando agostino di buy pay shop mi ha messo nelle mani questa penna la mia prima reazione è stata di essere completamente interdetto cioè non sapevo ero smarrito smarrito perché c'è uno spezzato netto tra cappuccio fusto e anche con il fondello sebbene più o meno qui il fondello richiami il motivo delle linee perfettamente dritte ma guardate un po guardate un po la bellezza di questo cappuccio a parte il glitter che può piacere può non piacere ma le volute c'è sembra sembrano nebulose di un universo astrale qualcosa di di veramente fantasioso sembra una visione dell'uomo moderno da un lato si veste tutto giacca cravatta elegante si mette il gessato ma in realtà la sua mente è in costante moto in sincronicità con l'evolversi dell'universo insomma c'è una una sorta di di stupore che mi ha mi ha infuso questa penna quando l'ho presa in mano ho detto va finalmente qualcosa di diverso cioè si vedono resine tipo spaghetti ok vero si vedono alternanze di colori in questa tipologia di resine ma non così contrastanti tra loro quindi questo è un osare veramente tanto non con uno stacco così netto tra cappuccio e fusto in termini proprio in cui il cappuccio non è un cappuccio nero penso ad esempio alle delta di una volta bellissime penne per carità però sebbene ci fosse uno stacco in realtà era uno stacco dove il cappuccio andava verso il conservatore qui invece no qui non c'è l'essere conservatore qui c'è l'innovazione proprio nel cappuccio nel rivestimento della del corpo di scrittura va bene non voglio fare troppa filosofia analizziamo le parti della penna cupolina a punta verso l'alto che rispecchia quella del fondello del falso fondello che non si svita cappuccio il cappuccio si allarga in una scritta poi incisa tibaldi da un lato dall'altro c'è made in italy quindi fatto in italia e siamo abbastanza orgogliosi di questo continuiamo a fare stilografiche veramente di alta qualità che ci comprano in giro per il mondo poi clip comunque un po troppo rigida per i miei gusti fa sicuramente il suo dovere di tenere ferma la penna nella vostra nella vostra tasca nel vostro taschino nella vostra custodia dopodiché il cappuccio si svita e si svita in praticamente poco più di un giro rivelando un pennino in acciaio tibaldi con provo a metterlo a fuoco un più da vicino con l'aquila e la scritta tibaldi gradazione in questo caso f comunque incisa sul pennino a scanso di equivoci io adoro quando mettono bello in grande che caspita di pennino è perché al di là del fatto che uno se ne rende conto dal tratto a volte il tratto non è proprio marcatamente di un tipo di un altro a volte tende all m a volte tende all'extra f non si sa bene che pesci pigliare qui si dichiara dopodiché abbiamo un alimentatore che dall'assenza di adore di odore penso sia in plastica comunque lo vedremo poi all'opera un alimentatore molto molto particolare devo dire il la sezione degrada dolcemente verso il corpo di scrittura e vi avvisa che vi state avvicinando troppo a livello tattile con questo cerchio inciso quindi non c'è una svasatura che vi trattiene ma c'è comunque un avviso che io ho trovato comodo per evitare di sporcarci le mani dopodiché si svita il fusto qui rivelando il meccanismo di caricamento che a cartucce o converter la infrangibile originale era fatta sia con levetta sia con pulsante di fondo in questo caso un comodo meccanismo a cartucce o converter in particolare il converter è incluso c'è il marchio tibaldi ed è un converter a vite per cui è ben saldo nell'alloggio diventa un corpo unico con la sezione quindi anche se doveste muovere la penna non rischiate che filtri aria all'interno del converter perché si smuove un po' troppo insomma non rischiate discontinuità di flusso per questo motivo detto questo bando alle ciance cimentiamoci in una prova di scrittura allora parliamo di tibaldi infrangibile in questo caso la livrea si chiama blu pavone ovviamente un esemplare diverso dall'alto soprattutto per il cappuccio alcuni esemplari ho visto avere un pronunciato arancione molto vivido quello che voi vedete qui a volte può essere un arco che percorre tutto il cappuccio dipende dall'esemplare che arriva nelle vostre mani un esemplare diverso dall'altro e anche questo fa parte della bellezza di questo di questa resina plastica prova di continuità di flusso non riesco a metterla in difficoltà scrive veramente in maniera impeccabile generosità del pennino piuttosto abbondante devo dire sì piuttosto abbondante non eccessivo è ben tarato è ben tarato adesso scriviamo una pagellina come sempre scrivo tutto commentiamo alla fine ok abbiamo visto il flusso essere abbondante ma non troppo quindi non troppo dispendioso ben tarato 10 su 10 perché non ha dato neanche skipping e non ha dato false partenze feedback 10 su 10 è un pennino che vi offre controllo ma pattina veramente bene sulla carta impugnabilità 10 su 10 perché abbiamo visto si può impugnare a varie altezze sicuramente anche perché il cappuccio è calzabile in maniera piuttosto sicura quindi non avete nessun problema di impugnatura materiali qui devo togliere tre punti perché solo per il tipo di materiali perché parliamo di resina plastica metallo e appennino in acciaio il conduttore mi sembra in ebanite quindi sinceramente non vedo materiali particolarmente dispendiosi per quanto riguarda invece il design recupera punti andando sul 10 su 10 perché guardate che belle volute ve le faccio vedere ancora una volta perché ingrandendo bene con con la fotocamera vi rendete conto veramente della bellezza di questo esemplare è veramente veramente bello questa librea è fantastica e poi anche questa specie di gessato colorato molto molto bello molto innovativo non si vede così spesso uno spezzato nel panorama stilografico internazionale uno spezzato così bilanciamento le ho dato un 8 su 10 perché perché comunque sia la penna in sé è piuttosto leggera e a livello di fulcro ci troviamo a metà strada tra la punta e il fondello e se calziamo il cappuccio si sposta naturalmente un po all'indietro ecco qui e ci troviamo un pelino all'indietro quindi qualcuno mi potrebbe dire vabbè ma non è un bilanciamento perfetto infatti ho tolto due punti però sappiate che la leggerezza della penna fa sì che non sentiate anche calzando il cappuccio perché non è un cappuccio molto pesante fa sì che non sentiate assolutamente il peso all'indietro cioè io non ho avuto gli stessi problemi che ho avuto ad esempio problemi problemi non sono problemi e una sensazione di peso all'indietro che ho avuto con una twist bvac 700r per esempio quindi comunque tolgo due punti per rigore di fatti manutenibilità 10 su 10 un pennino adesso lo l'ho svuotato un pennino che comunque si svita scusate un pennino volevo dire un converter a vite con una buona filettatura per cui diventa un corpo unico con la sezione stabilissimo si svita questo converter credo che si smonti anche con la giusta presa adesso non lo faccio per paura a timore di rovinare qualcosa che non è mio però mi aspetto che sia essendo un attacco internazionale sembra essere uno smitter e brandizzato quindi comunque facilmente manutenibile se non sapete come pulirla ho girato un video apposta per la manutenzione ordinaria di una penna stilografica a cartucce andate a cercare sul mio canale rapporto qualità prezzo e allora adesso non ricordo il prezzo preciso ma ricordo che comunque mi sembrava un po altino quindi tolgo due punti a ragione di cose ora vale la pena non vale la pena acquistare un esemplare così allora signori e manifattura italiana pennino scrive benissimo non ho fatto assolutamente nulla non l'ho pulito così come fuori dalla scatola ha scritto deliziosamente continuità di flusso in 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 arrestabile un flusso abbondante gli unici aspetti diciamo che ho notato non soddisfarmi molto sono legati alla clip principalmente perché per me è un po troppo rigida cioè se dovete infilarla di fretta in un taschino io sono abituato a quelle molleggiate è un poster di un po tostina da rimuovere e poi tende a essere un pelino storta anche se in questo esemplare di solito tibaldi le fa ecco vedete è un pelino pelino tendente verso sinistra non so perché però spesso accade con gli esemplari ho notato di tibaldi questo è un aspetto sicuramente migliorabile se siete in ascolto per il resto davvero nulla da dire qui parliamo veramente di impercettibile asimmetria eh cioè ci tengo a dire che sto proprio andando nel dettaglio della della maniacalità per il resto è veramente un esemplare di qualità molto alta infatti ho cerchiato la qualità perché se dovessi valutare la qualità di questo esemplare soltanto per il tema della clip gli posso togliere un punto neanche due per il resto è ineccepibile scrive da dio eh non fa una piega per quanto riguarda le incisioni del marchio e del made in italy il cappuccio è bellissimo così come il resto della penna quindi sinceramente un esemplare degno di entrare nella vostra collezione bene ho detto che era leggera però quello che è leggera per me potrebbe non essere leggero per qualcun altro mi è venuto questo dubbio per cui ve la peso pesa la penna senza inchiostro con il converter avvitato 22 grammi e 56 il solo cappuccio per cui quando lo calzate dovete tenere conto di avere 8 grammi 80 nel fondo della penna la sola penna qualora la usiate senza cappuccio calzato pesa se si sta ferma un attimino non ne vuole sapere 13 grammi e 79 per cui per me una penna tutto sommato piuttosto leggera ora vediamo di metterla a paragone con altre penne abbastanza diffuse sul mercato quindi parliamo di pilot metropolitan la mi safari visconti rembrandt e per mettere a paragone con un suo simile con una t baldi n60 la infilo proprio qui quindi come lunghezza sposto un attimo l'inquadratura come lunghezza siamo leggermente tra appunto leggermente più grande di una visconti rembrandt e diciamo di buoni 5 mm in meno penso della t baldi n60 più grande comunque delle altre due della pilot metropolitan e della mi safari cosa succede se però togliamo il cappuccio di queste penne anche per vedere quale potrebbe essere l'esperienza nella vostra mano una volta che vi accingiate a scrivere ecco qua allora anche per vedere la dimensione dei pennini secondo me diciamo che se la batte per lo più con la mi safari anche se è un pennino decisamente più piccolo e la n60 che credo abbia le stesse dimensioni di pennino rimanendo ancora un po più lungo un filino più lunga sul classa invece per lunghezza la pilot metropolitan e la visconti rembrandt bene direi che per quanto riguarda la recensione di questo esemplare nuovo esemplare di casa t baldi e tutto fatemi sapere cosa ne pensate sono curioso di conoscere le vostre opinioni in merito io ringrazio gli amici di buypayshop.it per avermi prestato questo stupendo esemplare molto innovativo devo dire sono contento di vedere innovazione sono contento di vedere rottura degli schemi nel mondo stilografico fa sempre bene creatività italiana made in italy per cui sono cose sono elementi che un po' risvegliano il mio interesse e voi cosa ne pensate grazie agli amici di buypayshop.it per averci prestato questo esemplare prestato non come plurale maiestatis a noi ma a noi tutti perché la sto condividendo con voi e grazie a tutti voi per aver visto questo video se vi dovesse interessare l'argomento delle stilografiche o volete semplicemente aiutarmi ad arrivare a diffondere maggiormente la passione verso nuovi interlocutori e quindi a promuovere i miei video iscrivetevi al mio canale e cliccate su like commentate fate quello che normalmente fate quando vi interessa far emergere un canale grazie a tutti voi e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti